L'indomani dal Covid tutti si siano svegliati chiedendosi che cosa dobbiamo fare per i giovani, abbiamo fatto abbastanza per loro, dobbiamo intervenire ulteriormente. La mia sensibilità in realtà è cambiata maggiormente verso un'attenzione a che in tutte le aree, soprattutto delle città, anche quelle piccole, ci siano degli spazi dedicati ai giovani. Provare a riconcepire delle aree della città destinate a loro, che diventino luoghi di aggregazione, nei quali possono discutere e affrontare delle problematiche che gli permettono di diventare grandi, possa essere una delle sfide più importanti da riuscire ad interiorizzare tutti noi dopo la pandemia. Ogni volta che mettono in atto, pensano e scrivono una legge, dovrebbero porsi dal punto di vista dei ragazzi. Così riuscendo a coinvolgerli, ad ascoltarli, facendo delle survey, ma principalmente facendoli sedere ai tavoli con i decisori politici. Io credo che la politica lavori meglio quando le persone che stanno fuori dai palazzi si interessano di ciò che avviene all'interno dei palazzi. Un ascolto che sia un ascolto concreto, ma che si veda poi tradurre effettivamente in quella piccola luce che si accende nella mente di ogni ministro, che nel momento in cui scrivono a legge o la pensa si domanda ma che effetto avrà sui 18 anni di oggi, sui 20 anni? Avrà un effetto in termini occupazionali, pensionistici, di prospettive, di speranze? Questa sarebbe la priorità per riuscire a ristabilire quello che è un contatto importante di fiducia che un po' si è persa negli anni. Cosa può fare un'organizzazione importante come l'Ox è sicuramente aiutare a comprendere tutti gli stati quali sono le migliori prassi degli altri stati e fornire degli indicatori per valutare le politiche pubbliche. Io credo che fare un'analisi di ciò che avviene in termini di dati, dell'impatto che tutte le politiche hanno, ci può permettere di riuscire a reindirizzare e a riscrivere meglio le norme se necessario.